Durante l'ultima Scalping Live, insieme a Giancarlo Prisco, abbiamo operato in diretta sui principali indici azionari americani come Standard & Poor's 500, Nasdaq 100 e Dow Jones 30, sfruttando quella che è la volatilità portata dall'apertura dei mercati americani alle ore 15.30. Vediamolo in questo video. Vedo che c'è molta volatilità prima dell'apertura. C'è spinta al ribasso, il Nasdaq sta cercando di tornare sui 14.950 e probabilmente lo farà, mentre il Dow deve rimantenere i 33.800. Ovviamente l'apertura dobbiamo calcolare un paio di differenze che sicuramente andremo a vedere. Il Nasdaq probabilmente scenderà parecchio, il Dow invece no, in quanto i dati di Goldman Sachs e Bank of America, ma anche altre banche negli ultimi giorni, le trimestre sono uscite molto buone, quindi noterete probabilmente una differenza sostanziale tra i due. Vedete il Dow che sale, mentre il Nasdaq continua a crollare perché poi entreremo con Netflix e Tesla nei prossimi giorni, quindi vedete la differenza proprio sostanziale tra i due strumenti. Questo purtroppo fa parte delle rotazioni settoriali e una cosa che si vede giornalmente. Quello che volevo dire è che sempre attenzione dalle 15.30 alle 16, operare può essere molto divertente e comunque anche profittevole, però è anche molto complesso. Quindi la prima mezz'ora è sempre quella un po' più difficile, però siamo qui anche per operare in apertura, quindi se ci sarà l'opportunità entriamo. Però un consiglio che magari diamo a tutti è quello di fare attenzione ai primi minuti di contrattazione. Se vuoi invece possiamo fare un'altra cosa, vorremmo uno short sul Nasdaq. Ok, siamo entrati. Velocemente cerchiamo di prendere una leggera accelerazione. La zona dove stiamo è una zona molto dura, ci sono molti volumi, ma quando fa così di norma dovrebbe scendere almeno un altro po'. Questa chiusura è stata buona, diciamo, cioè buona nel senso, bella chiusura negativa. È un mercato piuttosto volatile, quindi dobbiamo cercare di andare nel main trend, sennò ci fanno pele e contropena. In teoria dovrebbe scendere un altro po', ma visto che siamo nei primi minuti, se lui non rompe questa zona c'è poco da fare. Non possiamo ovviamente ancora comprare, ma non possiamo neanche uscire ancora dalla posizione. Sulla carta, ve l'ho detto, ci sono circa 50 punti di short, 40-50 punti ancora disponibili. Se l'SP riesce a fare almeno un ultimo giro al ribasso, il Nasdaq ci dovrebbe offrire i 14.970-960. Questo è l'obiettivo del 3. Ottimo trade, cerchiamo di abbassare un po' lo stop e lo mettiamo a 15.020. Poi al caso lo mettiamo in pari. 15.020. Mettiamola in pari. Ah, in pari ragazzi, primo target raggiunto. Allora, primo target raggiunto, fate un parziale, 9.60, secondo target quasi raggiunto. Eccolo, la vedi? Questo era quello che io cercavo. Mettiamo più 10 circa. Allora ragazzi, vedete però la differenza che io, ecco perché non ho fatto short sul DAO. Che cosa vi ho detto prima dell'apertura? Guardate che cosa sta facendo il DAO. Non scende. Avete visto che cosa ha fatto? Vedete il DAO al contrario continua a stare? Ricordate che siamo in epoca di trimestrale. Viste che sono uscite le banche, la old economy, la vecchia economia, sono sul DAO. Ecco, spiegate il motivo. Sulla piattaforma di Kimura abbiamo un primo target in area 14.950. Siamo arrivati al 9.60. Cambia poco. Ma ritengo che abbiamo ancora questa possibilità di andarla ad attaccare. Se l'SP non riesce immediatamente a girarsi e magari riesce a fare il primo target ribassista, ovvero 340, poi 330, allora vedrete il Nasdaq arrivare a 14.900. Non sto scherzando, forse anche di più. Eccolo. Eccolo là. Eccolo là. Da ye. Target perfetto. Eccolo qua. 4.950 raggiunto. L'SP è arrivato al primo target che vi ho detto io, 4.340. Il nostro obiettivo è capire se l'SP qui sta accumulando, quindi in quel caso avremo un recupero dell'SP che potrebbe salire magari sui 359, quel livello che ha marcato Riccardo. Sarebbe poi quello l'obiettivo. E se riusciamo magari a vedere il Nasdaq sopra i 15.000 allora potrebbe ripartire bene. Via, entriamo long. Stop dietro la cannella precedente e 2-3 punti cerchiamo di prendere poi stop e qui sotto 6 punti di stop. Vediamo se spinge. Mettiamo il 3 di stop a 352. Lezione. Target. Riccardo togliamo un altro po'. Ragazzi chi è arrivato qui? Abbiamo i nostri canonici 12, 13, 14, non lo so. Infatti, ma finalmente il DAO sta salendo. Mi ha dato i miei 70 punti. Grande, grande, grande. Grande, grande questo Giancarlo, bellissimo, bellissimo, bravissimo. Studiato. Voi qui potete seguire o lo stile che abbiamo usato di Riccardo, quindi abbiamo parzializzato, abbiamo comunque garantito 9 punti. Non usciamo dall'operazione, questo è sicuro. Però, ripeto, invito a non lasciare tutto al caso. Qui la gestione attiva con lo scalping richiede un occhio perfetto. Bene, Riccardo. Va, 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 qua, va, va, 15 punti. Che cosa possiamo imparare da questa scalping live? Beh, possiamo ovviamente affermare che il timing è una delle cose più importanti quando si va a fare trading, soprattutto nei momenti di alta volatilità. Ma, un'altra parte importantissima riguarda la gestione attiva, ripetuta più volte durante la scalping live. Ecco, la gestione della posizione si è rivelata in questo caso importantissima per portare a casa i profitti e per gestire quindi al meglio quello che è il rischio totale dell'operazione. Replicheremo questo tipo di operatività durante la prossima scalping live. Quindi, se siete interessati a operare in live insieme a me e insieme a Giancarlo Prisco, vi lascio il link per iscrivervi qui sotto in descrizione.